Amici di Sport Perugia, ben ritrovati con il nostro nuovo appuntamento del Focus Grifo, l'occasione per parlare del Perugia Calcio, anche se durante il fine settimana c'è stata la sosta per le nazionali e si va verso una settimana che porta alla sfida con il Brescia, partita molto importante. Vedremo come ci arriva il Perugia e cercheremo di andare a conoscere, anche con l'usselo dei nostri ospiti, quella che è la formazione di Filippo Enzaghi. Vado appunto a presentare i nostri ospiti, a partire dalla mia sinistra, compagno di viaggio e firma importantissima di Sport Perugia.it, Nicolò Brillo. Ciao Andrea, ciao a tutti. Ben ritrovato Nicolò, alla mia destra ritroviamo il nostro mister, un altro supporto importante per quanto riguarda i nostri contributi, Lavagna Tattica, Fabio Orlandi. Ciao mister, ben ritrovato. Ciao Andrea, ciao Nicolò, un saluto a tutti i spettatori. Approfittiamo che Fabio è qui per salutare anche la sua squadra, il Don Bosco che sta procedendo abbastanza bene con una battuta d'arresto. Una battuta d'arresto che ci sta, diciamo, fa classifica, fa media, quindi ha in bocca al lupo la tua squadra per il futuro. Chiaramente lo facciamo un po' a tutte le squadre del territorio perugino che militano nei campionati giovanili, in questo caso un campionato giovanile molto importante perché è quello regionale. Collegato con noi abbiamo il nostro Doroteo, Roberto Arcangeli. Ciao Roberto. Ciao ragazzi, ben sentiti e a tutti gli spettatori un felicissimo fine settimana. Bene Roberto, allora non abbiamo collegato Tedeschini che chiaramente anche noi abbiamo approfittato della pausa delle nazionali per tenerlo a riposo, anche perché poi alla ripresa del campionato lo vorremmo avere carico. Abbiamo collegato appunto Roberto Arcangeli che potrebbe adesso anche assumere il ruolo nello staff di Fabio Orlandi, visto che segue le partite della Don Bosco. Come aiutante. Come aiutante della tribuna, diciamo, l'occhio più alto che riesce a dare dei conti. Match analyst. Match analyst, Roberto Arcangeli per la Don Bosco. Ti volevamo proporre in fase introduttiva anche Tedeschini, ma hai rifiutato perché rischi il posto. Sentiva la pressione. Sentiva la pressione. Poi dopo due o tre statistiche nel confronto con l'allenatore presidente, secondo me, chiedeva subito la tua testa al presidente. Non mangiavo le cosiddette fave dei morti. Le cosiddette fave dei morti non le avresti sicuramente mangiate. Allora, Nicolò, abbiamo detto che è stata una settimana chiaramente di pausa, una settimana abbastanza noiosa, perché la nazionale è sempre la nazionale, però quando si entra nel clima campionato a essere interrotti così non è mai bello, però è un momento anche in cui le squadre spesso ne approfittano un po' per fare il punto. Diciamo che il Perugia ha avuto l'inconveniente e l'infortunio di Burrai che chiaramente complica un po' le cose. Eh beh, quello di Burrai è un altro infortunio muscolare. Io penso che starà fermo quanto dell'Orco che dovrebbe essere recuperato invece per Brescia. Ha avuto una lesione muscolare all'adduttore, quindi io penso minimo tre settimane dovrà stare fermo. Poi per ritrovare la condizione ci vuole, ma Perugia avevamo detto che ha un'abbondanza centro campo, quindi sarà anche l'occasione per vedere all'opera, ma in pianta stabile, non so, magari un guion, magari anche lo stesso Van Baleghem, magari troverà spazio anche Murgia, quindi a centro campo i problemi non ce ne sono. L'unica cosa è che Burrai stava giocando bene, penso questo lo possano riconoscere tutti, perché l'anno scorso ha giocato sopra il dolore dell'Ernia, si è operato solo alla fine, e adesso questo insomma non ci voleva perché veramente sta facendo un inizio stagione importante. Per quanto riguarda la squadra, c'è stata l'ami che vuole con la primavera, una sgambata, 9-0, il risultato non conta niente, sicuramente Alvini avrà provato anche qualcosa di diverso, immagino rispetto al canonico 3-4-2 o meglio, me lo auguro, perché arriverà adesso in casa il Brescia, noi in casa ancora dobbiamo trovare i primi tre punti della stagione, e il Brescia non è che è un outsider, è una squadra che secondo me per il potenziale che ha poteva anche investire qualcosa più, ma nel senso ha preso dei giocatori a zero, ha preso dal Chievo, ha pescato anche dall'estero, poi davanti a Rodrigo Palassio, Stefano Moreo, a Iè che ha fatto comunque sia la Serie A, sarà una squadra di tutto rispetto, di più. Non sparare tutte le cartucce adesso perché poi vorrò tornare a te, mister, che assenza è quella di Burrai? È un'assenza importante perché come ha detto giustamente Nicolò, stava giocando bene, e quando un giocatore è in fiducia, in condizione, perderlo è sempre un problema. A me personalmente non era dispiaciuto Ghion quando aveva esordito, per cui penso che l'occasione sia per lui per poter giocare da titolare, in coppia con Segre che nell'ultima occasione ha fatto una buonissima partita. Quindi, come diceva Nicolò, giustamente a centrocampo non perdiamo tantissimo, nel senso che comunque ci sono diversi giocatori, sarà importante il recupero di Dell'Orco, il problema probabilmente più importante in questo momento è davanti, perché non riusciamo a finalizzare. De Luca nell'ultima partita è apparsa abbastanza impacciato nelle giocate tecniche, e quindi vuol dire che qui c'è molto da migliorare, mentre Matos ha fatto una buona partita, però Matos ormai si conosce, è un giocatore che non ti garantisce un grandissimo numero di gol. Le alternative sono Carretta e Murano, Carretta, come giustamente sottolineavi tu una precedente trasmissione, è più un esterno destro che una vera e propria punta, Murano, Murano non lo so, se non trovo la giocata soffro. Aspetta che qui già mettiamo la prima discrepanza nello staff tecnico da Deun Bosco, perché Roberto ricordo male o tu sei uno che vuole sempre Murano in campo? L'unico giocatore che tira in porta, visto se te lo devi mettere in panchina, sarebbe il caso, insomma, come la mettiamo? Nel senso che mister, questo l'assistente, il match analyst, vuole l'impiego di Murano, secondo me invece Alvini non lo fa giocare neanche questa volta, però vedremo poi, magari lo fa giocare. Ma l'impiego anche a partita in corso, l'impiego anche a partita in corso sarebbe consigliabile, è un giocatore che era in condizione, anche mentalmente lo vedo progredito rispetto alla passata stagione, quindi sarebbe impeccato non sfruttare una vena, che c'ha comunque naturale, poi dopo la porta dice che la vedono poco, mamma mia, tenta sempre delle soluzioni complesse, difficili, perché noi vogliamo far gol davanti alla linea di porta, non sempre poco. Beh, come match analyst mi sembra abbastanza preparato. Sì, sì, è preparatissimo. È preparatissimo, quindi... Sì, no. Roberto, ma tu, c'hai un giusto doppio impegno nel fine settimana, devi seguire la Don Bosco, dovrai seguire anche il Perugia, come ti districherai in questo duplice impegno? Ho una fantastica Vespa che mi consente rapidi movimenti in città, quindi alle due e mezzo sarò al campo del Don Bosco, poi mi trasferirò giù a Renato Curi ad altissima velocità, quindi non temo tempi e distanze. Grandissimo. Bene, bene, molto bene. Torno da te un attimo, al di là di Murano, vorrei anche a te un commento sull'assenza di Burrai e su chi vedi come giocatore in grado di poterlo sostituire, perché da quello che abbiamo capito, che abbiamo letto, che ci ha detto anche e confermato Nicolò, sarà un'assenza, non dico prolungata, però qualche settimana dovremmo fare a meno. Allora, quando un allenatore comunque ritiene che questo sia l'assetto più convincente per far esprimere il proprio centrocampo, sarà un'assenza che si farà sentire, perché comunque il giocatore d'esperienza ha dimostrato. Adesso voglio finalmente vedere il Perugia quando non c'è Burrai. L'anno scorso, per esempio, Burrai non è che abbia giocato tantissimo e chi ha sopperito alle assenze insomma l'aveva fatto abbastanza bene. Quest'anno l'impianto di gioco è diverso. Voglio vedere se Ghion, che comunque è un ragazzo giovane che l'abbiamo visto impiegato solamente in una partita, possa riuscire a sostituirlo bene. Certo, non ha il calcio lungo che ci abburrai, però comunque, visto che è in mezzo, ha praticamente le stesse caratteristiche. Bene. Perugia è una partita complessa. Adesso ci andiamo. Vorrei, prima di entrare sulla questione Brescia, vorrei un attimo con Fabio Orlandi, visto che non ti abbiamo avuto la settimana scorsa, dove noi ci siamo un po' diciamo dilettati anche nel fare un bilancio. Abbiamo approfittato della sosta, quindi sosta ancora è, per capire sin qui, diciamo, la tua valutazione del Perugia. Noi abbiamo detto, insomma, Perugia ha due facce, no? Perugia in campo esterno quasi perfetto, Perugia in versione interna, diciamo, con più di un problema. Sì, dovessi fare la battuta alla Tedeschini, 10 punti in 7 partite, la media 1,4, salvezza sicura. Tedeschini, diciamo... Tedeschini è presente anche se non c'è. Esatto. Direbbe che questa è una squadra che può fare qualcosina di più della salvezza. Allora, sì, adesso, tornando a serie, è evidente, Andrea, che la squadra preferisce giocare fuori casa proprio per l'atteggiamento che ha, anche, diciamo, per l'atteggiamento mentale di alcuni senatori, quelli che abbiamo già sottolineato, come Angela Rosi, che trascinano la squadra. Trascinano la squadra. Se voi fate caso alle partite fuori casa del Perugia, si vede proprio palpabile, una ferocia, una cattiveria calcistica importante. Cioè, non temono niente. La Padula era un giocatore veramente fastidioso, è stato letteralmente zittito da un monumentale Angela. Quindi, fuori casa andiamo bene. In casa, dove devono venire fuori certe altre caratteristiche, sono più abilità tecniche, di destrezza, dell'uno contro uno, superamento dell'avversario, e lì palesiamo qualche difficoltà in più perché non siamo una squadra particolarmente tecnica. Allora, quindi, qui verrebbe fuori alcune riflessioni. La prima è la posizione di Juan, nel quale si è stato già dibattuto abbastanza. La seconda, è anche quella che sottolineava Nicolò, è quella di avere un'alternativa, cioè di non fossilizzarsi solo su un'unica soluzione tattica, ma di essere pronti a variare qualora le partite in casa non evolvano nella maggiusta maniera. Questo penso che Alvini, che ha avuto la pausa, abbia avuto, secondo me, il dovere di provare. Come ha detto Nicolò prima, ha provato un 3-5-2 nell'amichevole contro la Primavera. Io proverai anche qualcosa di diverso. Quindi anche tu sostieni questa forma di integralismo di Alvini, soprattutto in casa, ma in generale nella gestione della partita casalinga, che può essere, non dico nocivo, però avere delle ripercussioni non in senso positivo. Sì, perché Andrea, se fai il cambio punta per punta, centrocampista per centrocampista, spesso non scombussoli l'atteggiamento difensivo o l'atteggiamento tattico degli avversari. Qualche volta bisogna anche usare, fare qualche mossa che può apparire azzardata, che poi ti può ripagare, come giocare per esempio con tre punti, un 4-3-3, cioè cambiare, giocare diversamente. Inventare qualcosa, come fanno tanti allenatori, anche più blasonati di Alvini, senza fare nome e cognome. Roberto, prima che Nicolò ci presenti un po' al Brescia, torni su quelle che erano le sue considerazioni all'inizio puntata. Ti chiedo se effettivamente, al di là della giocare la partita in casa, anche il dovere affrontare un avversario come il Brescia implica e comporta delle valutazioni anche in un ipotetico cambiamento. Cioè, sono quelle partite dove tu pensi che una squadra si deve un po' conformare ad un avversario sulla carta più forte? Ci credi in questo? Ma io penso che finora il Perugia ha dimostrato di avere insomma le proprie caratteristiche, una propria visione e il fatto di volersi giocare sempre la partita. L'ha dimostrato fuori casa quando può sembrare più rischioso. L'ha fatto anche con forza atletica, fisica buona. Quindi ritengo che in casa forse debba cambiare qualcosa nell'atteggiamento propositivo della squadra, specialmente quando magari è necessario aumentare il peso davanti. Qualcuno aveva suggerito un 4-3-3 che secondo me specialmente in casa se l'avversario non è che sia particolarmente ecco, magari l'allenatore non porrà sconvolgere la difesa a tre piuttosto che portarla a quattro. Però, insomma, qualcosa bisogna fare se le partite stagnano. Perugia poi c'è uno strano vizio. Comincia sempre troppo forte, comincia. che poi dopo si perde perché le partite comunque sono complesse. Lo vorrei un pochino più ragionatore, magari meno effervescenti i primi minuti per poi comunque regolare forze ed energie psichiche, mentali per arrivare in fondo alla partita con la sicurezza di avere quantomeno da spendere anche per gli ultimi minuti, anche per la seconda fase della partita che rimane anche per le altre partite dello stesso girone che si vedono che si si risolvono anche negli ultimi minuti. questo che dici tu secondo me è una cosa importante. Questo Perugia che ha questa veemenza all'inizio ma è un po' frutto anche del carattere allenatore. Si dice spesso che una squadra rispecchia un po' il carattere allenatore. Alvini lo vediamo, il panchino è un po' tarantolato, non riesce mai ad avere questa compostezza, queste cose. Potrebbe essere anche questo un'indicazione sul perché il Perugia non riesce a gestirsi soprattutto in casa perché fuori veramente ci sono poche cose da dire. Vorrei avere le cartucce da poter spendere anche le ultime fasi della partita se le partite stagnano perché necessariamente come abbiamo visto anche nelle precedenti le partite poi prendono delle pieghe durante il corso e bisogna averci le risorse sia fisiche che mentali per cercare di sbloccarle. Quindi cambiare in corsa averci giocatori pronti disponibili è fondamentale. Allora Nicolò che avversario è il Brescia? Il Brescia si presenta dai numeri terzo in classifica con 15 punti o 14 scusa è il miglior attacco della serie B 19 reti fatte la seconda pensa è il Pisa e è 4 dietro certo è una squadra che però l'incassa i gol è la quindicesima difesa quindi ha un andamento diciamo opposto al Perugia che no ma è una difesa molto valida ne ha subito solo 5 mentre l'attacco un pochino fatica ecco si scontrano queste due diverse anime il problema qual è analizzando le statistiche è che il Brescia ha fatto le 14 punti 10 fuori casa mentre il Perugia è proprio tra le mura di casa che fatica quindi diciamo bisogna invertire questo trend di entrambe le squadre noi ce l'auguriamo almeno perché il Brescia attualmente che sia il Perugia di invertirlo assolutamente perché se guardiamo i numeri capiamo subito che la partita non è che è difficile di più però la serie B è strana perché tanta gente avrebbe detto con l'Alessandria facciamo i punti e con il Cosenza si può fare qua e là invece sono magari partite che presentano delle difficoltà che magari anche importanti quindi la serie B tutti possono vincere e perdere con chiunque alla fine tutto può accadere tante schermine saltano diciamolo così che fondamentalmente sin cui il Perugia ha trovato squadre che sono venute al Curi diciamo a giocare di rimessa usiamo questo termine un po' arcaico Brescia forse Brescia probabilmente potrebbe diciamo rimanifestarsi una partita simile a quella sulla carta sulla carta sì però alla fine insomma c'è in panchina Inzaghi che sì comunque sia è uno che è stato un attaccante uno dei migliori dell'ultimo ventennio non disdegna attaccare però è una volpe quindi non non ci andrei così sicuro che il Brescia arriverà qua per cercare di impostare il gioco fare il gol a tutto magari farà anche un primo tempo un pochino più accorto il secondo se non avrà segnato cercherà di riversarsi in avanti io lo vedo come una squadra molto intelligente perché ha dei giocatori che la B alcuni l'hanno già fatta davanti te l'ho detto a Ieca ha fatto la serie A Moreo la B la vista a Palacio che è l'elemento più di spicco secondo me di tutta la serie B perché è vero ci avrà un pochino di anni la carta identità è quella che è però rimane di valore assoluto quindi non lo so io la vedo come una partita molto complicata servirà servirà come abbiamo detto anche trovare soluzioni diverse alle volte perché anche sulle fasce il Brescia va forte cioè a Pajac ce lo ricordiamo no Pajac sulla fascia è veramente devastante se è nelle giornate Pajac questo adesso era mi aveva avuto un attimo una riminiscenza su Pajac mi è venuto un sorriso un buonissimo giocatore un grande mancino forse noi l'avamo visto in una fase ancora embrionale forse non era maturo non era maturo però insomma aveva fatto comunque sia delle buone cose delle buone cose tra Martella Pajac ne sono passate di terzini sinistri nel frattempo ha fatto qualche presenza in Serie A insomma a Genova no Pajac ha un buon mancino come diceva Nicolò il Brescia è un'ottima squadra ma come verrà come la studierà secondo te Inzaghi Inzaghi viene da un 2-4 casalingo contro il Como quindi vuol dire che tanto coperto non gioca perché se no non prendi 4 gol quindi secondo me lui viene per vincere per cui io non lo vedo non penso che si coprirà perché poi non è che l'allenatore dice di coprirsi o non coprirsi poi dipende dalle caratteristiche dei giocatori il Brescia a parte la coppia di centrali ci sta una canselliera che sono abbastanza alti e quindi lenti anche come terzini tra Mateio e Pajac c'ha due c'ha due incursori a centrocampo c'ha centrocampo da piedi buoni quindi una squadra che verrà a giocare la partita secondo me tranquillamente per cui in questo caso il Perugia potrebbe anche fare bene speriamo lo speriamo perché crediamo che una squadra che punti come obiettivo principale quella della salvezza debba trovare una continuità di risultati e di presenze diciamo da un punto di vista di punteggio anche nelle partite casalinghe Roberto detto che vorresti vedere un po' più Murano ma tra vista anche l'assenza di Burrai prima abbiamo parlato di Ghion ma c'è qualche giocatore di cui ancora hai la curiosità di capire di che stoffa è fatto e soprattutto di cui magari vorresti vedere o un impiego maggiore o un impiego diverso? Guarda allora l'unico giocatore che è rimasto escluso insomma una manciata di minuti in casa è stato Murgia che mi piacerebbe capire di che stoffa è fatto mi piacerebbe capire se può essere utile alle sorti del Perugia parto dal presupposto che saranno utili tutti come avete visto sono tutti quanti impiegati Ghion rigioco a titolare lo danno già per titolare per la prossima partita e niente ritengo che sia solo lui al momento il giocatore che dovrebbe farci vedere qualcosa non so anche condizioni non tanto fisiche quanto mentali quando è arrivato da Ferrara l'allenatore mi auguro che abbia anche il compito la capacità di riportarlo insomma buono per le sorti per le sorti del Perugia mi piacerebbe comunque ritorno al discorso di prima mi piacerebbe contenere per ripartire mi piacerebbe contenere il Brescia per ripartire forse è la tattica che risulterebbe migliore per il Perugia per sabato mi piacerebbe insomma che il Brescia o quantomeno pensasse mi piacerebbe pensare che il Brescia potesse pensare di venire a fare risultato pieno qui e il Perugia che lo castighi di rimessa insomma questo sarebbe qui il tuo head coach dice che fondamentalmente non è la filosofia di Alvini questa a meno che tu non riuscirai anche a convincere Alvini magari andare a vedere qualche allenamento sì però come diceva come diceva giustamente come diceva giustamente anche Nicolò è una squadra e come diceva anche il mister è una squadra che tecnicamente a centrocampo si può far sentire e se tieni il possesso della palla e lo sai tenere insomma magari ci possono mettere in difficoltà ripartire e fargli male sarebbe l'ipotesi secondo me più conveniente per sabato bene staremo a vedere questa comunque è una partita che chiaramente dà anche altri spunti non solo quelli legati alla classifica quindi anche il confronto con una squadra che è chiaramente tra le favorite per la promozione diretta in Serie A poi anche per l'esperienza dell'allenatore Inzaghi che già ha ottenuto una promozione in questo campionato centrato i playoff con il Venezia purtroppo a danno del Perugia lo ricordiamo bene quindi diciamo che è una partita davvero interessante a questa partita ci si è arrivati noi scherzavo prima di entrare mister Fabio Orlandi anche con qualche nota di colore perché è stata un po' anche la settimana delle cene tutti si aspettavano la pizza in realtà è stata la scena del pesce e della carne offerti da un noto sponsor che è vicino da tanto tempo alla squadra insomma è vero che il Prugiar Reddu c'è la trasferta di Benevento la campagna è un po' la culla la patria della pizza però sostanzialmente non si è parlato di pizza non so se tu Roberto sei più per la pizza per la carne o per il pesce non so dove ti orienti tu la pizza una volta alla settimana si può mangiare ma dopo ne esageriamo insomma ci vuole la carne e il pesce perché per correre ci vuole la carne e il pesce quindi dato il trancio di pizza post gara come è ormai da tradizione durante la settimana ci vuole la carne o ci vuole la carne anche il trancio dopo la partita è un fermino poi dopo quando arrivano a casa si faranno sicuramente qualcosa di da subito adesso non vorrei tornare su questo argomento provi di una cosa cioè quello che disse io Caserta si è sentito quando l'ha detto non è stato riportato l'ha detto ha fatto semplicemente una battuta quella della pizza era semplicemente una battuta ma bene però è una battuta che è rimasta che necessariamente a fronte magari di una bella prestazione ha fatto semplicemente una battuta tra l'altro anche divertente per cui non vedrei altro assolutamente però insomma nella settimana in cui il Perugia fa una bella prestazione a Benevento l'ex Caserta si aveva la sensazione che c'era una pizza invece il menù è stato nato quindi diciamo che la cronaca va anche raccontata per quello che è dopo le interpretazioni ognuno fa quello che vuole però nella sostanza noi sappiamo hai raccontati fatto passibile di essere smentiti però la cena in realtà è stata base di carne e di pesce se c'è la partita noi un po' di polemica dobbiamo vivere capito noi non vogliamo fare la polemica se no ci annoiamo te l'ho detto una settimana noiosissima senza partita noi non vogliamo fare la polemica noi vogliamo raccontare le cose per come le sappiamo noi poi dopo se tante volte magari saremo invitati anche noi a mangiare una pizza ci andremo molto volentieri volentieri anzi possiamo anche magari offrirla a noi insomma non è un investimento una spesa così certo già carne o pesce doppio menù rischiamo lì ci vuole lo sponsor però la pizza la possiamo offrire per il mio compleanno agosto avevo detto fammi una pizzata sono arrivati gli amici hanno preso di tutto quindi ho dovuto offrire carne e pesce pizze di tutto insomma lì so che le regole sono quelle se è pizza è pizza non è che si può sgarare perché io sono troppo buono va bene va bene l'abbiamo chiusa un po' così scherzando chiaramente con un clima tranquillo e sereno e aspettiamo cosa ci dirà il campo in questa partita molto interessante noi la torneremo a commentare la prossima settimana tornerà anche Tedeschini che è stato a riposto se abbiamo lasciato anche un po' tranquilli quelli che diciamo ogni tanto soffrono un po' le sue disamine perché come dice Roberto com'è che dici tu Roberto Tedeschini cosa fai a qualche telespettatore Tedeschini scusa non ti ho seguito no tu spesso mi dici che Tedeschini ha qualche telespettatore li fa un po' c'è in termine un po' perugino a ragagnare cioè nel senso li fa un po' inguastire inguastire no li fa un guastire perché chiaramente ha questa caratteristica dove trova chiaramente sempre il pelo nell'uovo quindi capisci che l'uovo in questo caso rimane a qualcuno magari provava a digerirlo bene lo trova lo trova grazie a Tedeschini sempre indigeribile assolutamente lo salutiamo Danilo grande personaggio grande Danilo grandissimo personaggio del nostro contesto giornalistico sia nei suoi scritti che nelle sue presenze videotelevisive ringrazio Fabio Orlandi al quale rinnovo gli auguri e in bocca al lupo anche per la sua attività di allenatore giovanile un saluto alla sua squadra alla sua società un saluto al nostro Nicolo Brillo che ritroviamo la prossima settimana vi ricordo le messe in onda televisiva del martedì alle 20.30 su Rete Sole Umbria Canale 13 poi anche il venerdì intorno a mezzanotte chiaramente poi nel fine settimana quando la voce del territorio Umbro Sport Perugia vuole Umbria sono presenti anche nel palinzesto di Rete Sole soprattutto la domenica chiaramente Sport Perugia salta perché ormai lì saremmo veramente vecchi nelle opinioni perché già si è giocato già c'è una nuova partita da commentare noi per questo torniamo il martedì invece grazie a chi ci seguono in tanti attraverso i canali social Facebook e Youtube alla prossima grazie ciao grazie a tutti